Musica Benvenuti a Fasa in Curta, a tutti chi che ne scolta su, che sta la neves del Comun General di Fasa per questa neve puntata. Il Comun General di Fasa dota la comunicazione da parte del conseglier provinciale Giuseppe De Tomas con quella che l'Estat metodante va in considerazione e in conto del smauramento della tassa di soggiornanza di Fasa la indrezza una scontreda di confronto con l'associazione di categoria. La scontreda la sarà in Xebia al 14 settembre dalle 5 da sera che sta la grana del Comun General. In confronto incontra che questo argomento sia importante per i fasa e inci una buona occasione per discorrer. Il Comun General ha deciduto il mese di settembre per giudere il metodo all'associazione di categoria di seminare e di scorrere con i suoi sottie. La scontreda del 14 settembre è stata voluta proprio per fare un punto della situazione su quel che è stata questa stagione estiva, su quel che sarà la stagione che vennerà e sulle soluzioni che si volerà trovare fuori insieme. Quindi per un pass è la cosa più di valuta che è proprio quella di dire trovare insieme le soluzioni che si è di valuta per il da venire di Fasa. Senz'altro questa è stata una stagione o una stagione che è stata una moglie di presenza e quindi viene fuori quelle che le sia le peculiarità della val di Fasa e senz'altro sarà emersa una qualche criticità. Sono chiesto, pensi che sia da fare un ragionamento Duce insieme, un ragionamento che va incontro a quel che vuole essere il da venire di Fasa e quindi chiedere fuori le soluzioni su quella che è la mobilità, che è sicur' uno dei temi che si stanno a toccare più di Duce, su quello che vuole essere la valorizzazione del nostro territorio perché la consapevolezza di essere un territorio unico e quindi renderlo fruibile al turista quello che la val di Fasa per l'offrire. E su questa via chiedere fuori anche coluna che potesse essere le modalità per slengere la stagione. Penso che se Duce insieme a risonare fuori quelle che le questioni sono emerse da mandi in Osghers che alla fine sono anche chi vive il nostro territorio e che ne porta insomma a sottolineare magari quelle che per essere le criticità. Sono chiesto che si stanno venendo fuori sui sfogli e c'è la questione della tassa di soggiornanza e che ribadisce quella che è l'importanza. Deve il paio di Nerva a guardare su se vedono la settimana che viene. Gli obiettivi sono che se si deve portare tanto, Dant desidera mettere in mano quella che è la tassa. L'estate è rievoca l'ordenanza di Streda Sereda di Gardeccia, ora che la sera ai 10 di agosto a Casondo in Gran Temporel le vengono su una metà che ha portato i mezzi e un buon tocco della Streda che da Pianpeciei ruota Gardeccia. Da un sorale che fatti dai studi affetti a Pozza e dagli esperti del servizio geologico della provincia le stati fatti controlli di danse intravenui sulla Streda per chi che le stati manda fuori l'ordenanza per sere la Streda che l'è stata rievochata ai 6 di agosto, al do del rapporto metodando al dottor Mauro Zambotto del servizio geologico della provincia o la che ven declara che il terreno adesso è stabile e non è più pericolo che il vengono su. E insin a chi nel settembre ad anche se fuori a Mestì si può portare dan domani per la selezione pubblica del dottor a quel che già vennerà da su la inceria di coordinamento sanitario e assistenza medic generica per i guest dell'accesa di pausa di fascia. La inceria la vennerà data su con contratto di prestazione professionella di sort privatistica per 3 anni alla longa che a buon conto il potrà venire sperlongià. Vennerà valutare il titolo di studio e professionale di candidacce ed ora vennerà per vedù e ne siamo a house. E se la pede l'accesa di pausa di vic e di pardacce, l'esame tufora ha una vista di selezione per due operatori sociosanitari . Per chi che lei ha la letta, 7 posti a tempo pieno di 36 ore senza settemena e 3 posti a tempo smendrà di 24 ore senza settemena per l'accesa di pausa di vic e un posto a tempo pieno di 36 ore senza settemena e un posto a tempo smendrà di 24 ore senza settemena per l'accesa di pausa di pardacce. Duce chi che ha interesse quel portare dan domani da anche se for a mesdi di vendere agli 8 settembre. Deve il paio di nerva da su se vedono la settemena che veng. .